L'appartamento, habitat ideale per una delle creature più feroci, Felix Domesticus. Dopo aver divorato un pasto guadagnato col sudore, si dedica alle attività quotidiane. Quando la stanchezza raggiunge limiti insopportabili, il gatto fa qualcosa di straordinario. Trova l'assetto migliore per il sonno. Le sue tecniche di caccia sono stupefacenti. Può seguire la sua preda ovunque o scegliere l'imboscata perfetta. La lascia avvicinare e la cattura. La lascia avvicinare e la cattura.